Avvocato Vaetti, da questa sera nuovo ruolo, nuovo incarico, presidente del Mondo V Volley, una bella responsabilità. Una grande responsabilità, soprattutto perché raccolgo il testimone da un grande presidente, in quale è stata Alessandra Fissolo, che a sua volta raccoglieva il testimone da un altro grande presidente, il quale è stato Walter Turco. E quindi da grandi responsabilità bisogna trasformarle in grandi opportunità e bisogna cercare di fare sicuramente il meglio possibile. La squadra che Alessandra, prima di lasciare, ha costruito, ritengo che possa essere in grado di raccogliere questo testimone e farlo nel migliore dei modi possibili, perché introdurre in squadra un vicepresidente quale Paolo Borrello e introdurre un direttore generale quale Pierdomenico Ravera sicuramente daranno una spinta nuova e una riorganizzazione tale da poter permettere a questa società di fare un ulteriore step. Quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta ad accettare questo incarico? Le motivazioni sono motivazioni emozionali, diciamo così, c'è un termine che si può usare, perché la passione che ho visto trasmettere da queste persone, vale a dire da Alessandra, da tutto lo staff e da tutte le persone che sono nel direttivo, ma anche soltanto venire a vedere le partite alla domenica, vedere la passione che ci mettono i tifosi, ti trasmette un qualcosa al quale poi diventa difficile dire di no. Per cui il fatto stesso di aver visto, io nasco prima come genitore di una pumina, e aver visto mia figlia crescere in questo settore giovanile e vederla giocare con passione, con emozione, con impegno e pensare che tante come mia figlia possano essere, come dire, tolte dai telefonini e messe in palestra a impegnarsi, a sudare, a faticare, per un obiettivo importante credo che sia una delle cose più belle che si possano fare. E quali sono le ambizioni che pensa di trasmettere all'ambiente? Le ambizioni sono loro che la trasmettono a me, perché bisogna sempre guardare in grande. Io in tutto quello che ho fatto nella vita cerco di farlo nel migliore dei modi possibili, cerco di farlo puntando un obiettivo. Poi qua basta guardare intorno in questo palazzetto, girarsi intorno, c'è uno striscione laggiù, c'è scritto solo chi sogna impara a volare. Ecco, solo chi sogna impara a volare. Questo è l'obiettivo che bisogna porsi, cioè continuare a sognare perché un giorno bisognerà imparare a staccare i piedi da terra e volare verso obiettivi importanti. Questo è un messaggio molto bello e molto importante che trasmette a una tifoseria che da sempre segue Mondovì con grande calore il Puma. Gli Ultraspuma sono il cuore pulsante di questa società, io stesso sono un tifoso di questa società, per cui credo che quale miglior garanzia per un tifoso che una società sia gestita da una serie di tifosi, perché tutti quelli che sono in questo direttivo sono tifosi di questa società. Che cosa vuol dire? Che tutti noi lavoriamo per cercare di vincere, di vincere il più possibile, farlo nel miglior modo possibile, con la maggior competitività possibile e con lo spirito sportivo corretto che da sempre ha contraddistinto questa società. Grazie a tutti!